Non dovrebbe essere troppo difficile, devo... No. Kendall, che sta succedendo? Ti gira la testa? Parkour che ci porterà sicuramente alla... Morte. Che qualcuno me la mandi buona... No, ce l'avevo! No, 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 io mi rifiuto, io mi rifiuto, io mi rifiuto. Guardate, guardate, l'ho fatto talmente tante volte che sono diventato un vero e proprio... Cretino, ecco, sono diventato un vero e proprio cretino. Ora devo fare un salto... Carpiato, praticamente, devo girare attorno al blocco? Eeeh, vediamo. Ce l'abbiamo fatta, ok? Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Don't Take Damage. Numero 3, abbiamo già fatto l'1 e il 2 in compagnia e avete lasciato veramente tantissimi mi piace, vi sono piaciuti tantissimo quei video. Tutti mi dite che faccio stra divertire quando porto le custom map, quindi sono contento di continuare a portarle e soprattutto per quale diavolo di motivo c'ho un foglietto in testa? Ah, ok, è il foglietto quello che mi toglie la vita e quindi mi lascia soltanto mezzo cuore. Anche questa mappa è creata dallo stesso creatore, infatti ce ne saranno tante altre e mi dovete fare sapere voi qua sotto nei commenti se vorreste vedere anche il numero 4, 5, 6, 7, 8, non lo so quante ne ha fatte sinceramente, però sicuramente ce ne sono altre 2, 3. E iniziamo, giochiamo con l'1.9, esatto, e dice che ci sono 9 livelli. Ok, non dovrebbe essere troppo difficile, devo... No. Ok, vi ricordate quando ho detto non dovrebbe essere troppo difficile? Bene, mi sbagliavo. Dove devo cadere allora, scusate? No, perché se cado... se cado qua mi ammazzo. Se cado qua muoio. E allora forse devo fare parkour qua da qualche parte. Devo fare parkour lì? Volete vedere che devo fare parkour da qualche parte così? No, non penso. È un pochettino troppo distante, non penso di arrivarci. E allora probabilmente devo cadere in acqua, devo fare un bel tuffo in acqua. Sì, 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 un tuffo bello carpiato. Siete pronti ragazzi? 3, 2, 1, soltacondo! Non ce la farò mai. Non ci riuscirò mai. Ok, già il primo livello mi sta dando abbastanza fastidio e non riesco a capire come finisce. Cosa devo fare esattamente? Fatemi dare un'occhiata un attimo meglio. Magari posso vedere qui da qualche parte. Ah, c'è una ragnatela qua sotto. Qua sotto mi sono appena accorto che c'è una ragnatela. E allora io mi devo buttare qua e prendere la ragnatela al volo. Non sarà facile ragazzi, perché come sapete bene, non è semplice riuscire a prendere le ragnatele. Aspettate. Ok, ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere. Ci siamo riusciti. E ora devo anche trovare un pulsante per completare questo livello. Credo sia là sotto. Fatemi dare un'occhiata. Come ci arrivo? Come? No! Devo fare tutto il giro nell'acqua? Ma io affogo! Sono morendo. Sono morto. Sono decisamente morto. Dove diavolo devo andare? Ce l'abbiamo fatta. Allora, dobbiamo capire come arrivare là sotto. Perché sicuramente là sotto c'è il pulsante, giusto? Presumo che lì ci sia il pulsante. Dovrei teoricamente fare parkour sugli alberi. Però per fare parkour sugli alberi, come lo faccio il parkour sugli alberi? Mica ci posso salire. Quindi l'unico modo è entrare qua dentro in acqua. Non mi fare morire da mia aria. Più veloce, più veloce. Nuota, Kendall. Nuota, nuota verso la fine. Nuota come un pesciolino. Kendall non sa nuotare come un pesciolino. Ma volete vedere che là sotto c'è un pulsante? Non lo devo attraversare. Devo semplicemente schiacciarlo. Il fatto è che non si vede niente. C'è troppo buio. Qualcuno riaccenda la luce, per favore. Cos'è non avete pagato le bollette, per caso? Credo che il pulsante sia qua da qualche parte, ragazzini. Sono abbastanza sicuro. Vediamo se lo trovo. È qua? Dai. No, ma non ce la farò mai. Tentativo numero 150.000. A superare questo livello una buona volta per tutte. Perché credo di aver visto il pulsante poco fa, ma non ne sono... Oh mio Dio, finalmente ce l'abbiamo fatta. Kendall, che sta succedendo? Ti gira la testa? Forse devo atterrare su uno di quei blocchi soffici di neve. Beh, la neve teoricamente non mi dovrebbe uccidere giù. Infatti, la neve come fa a uccidermi? È neve, è morbida. Si ci può tuffare chiunque. Qua c'abbiamo dell'altra acqua. Quindi questo è lo stesso identico livello di prima, però ghiacciato. E quindi, allora, aspettate. Visto che noi l'abbiamo superato da qua dentro, teoricamente ora noi dobbiamo andare da qualche altra parte qua vicino. Sento l'acqua tra l'altro sotto. Quindi riesco a sentirla. Ah, e qua stavolta lo possiamo fare il parkour. Ok, grazie alla neve possiamo fare il parkour. Molto bene. Parkour che ci porterà sicuramente alla morte. Dobbiamo arrivare fino in cima. Oh mio Dio, potrei andare nel prossimo livello. Non credo che ci devo andare così, vero? Non devo andare nel prossimo livello in questo modo. Ho visto un pulsante? Sì che l'ho visto. Ok, livello numero 2. Abbiamo completato... Cioè, abbiamo completato il livello numero 2. Adesso siamo nel livello numero 3. La foresta secca. Eh, non muoio, vero? Ok, non muoio se mi butto in questo modo. Anche questo livello è molto simile all'altro. No. Non è per niente simile all'altro perché in questa foresta secca possiamo arrivare fino a dove dovevamo andare anche negli altri. Ovvero, avevamo visto questo buco. Ci possiamo andare, però c'è una ragnatela. Quindi dobbiamo prendere la ragnatela. Bene, 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 bene. E ora devo fare così presumo bene. Poi dove devo andare? Devo continuare in questo modo. Allora, io ragazzi preannuncio già che quel salto mi farà impazzire. Vi giuro, ne sono già sicuro. Sono sicuro al 100% che quel salto mi farà uscire fuori di testa. Ma è possibile farlo, tra l'altro? Ma secondo me non è neanche possibile. Ok, direi che dopo più di 30 tentativi abbiamo appurato che quel salto non è possibile. O se non altro io non riesco a fare, piuttosto che bloccarmi qui per sempre e chiudere questo video adesso. E sono sicuro che se chiudessi questo video sareste tutti scontenti. Andiamo in game mode. In qualche modo, ragazzi, lo facciamo. Perdonatemi se sono andato in game mode, ragazzi, ma io non riesco assolutamente a fare questo salto. Non è semplice per niente. Quindi, vediamo. Così dovrebbe essere meglio. Sì, così. Vabbè, questo era qua. No, questo non era qua. Vabbè, non mi ricordo quale blocco ho rotto comunque. Ora, così dovrebbe essere meglio. Torniamo in game mode 2 e riproviamo tutto quanto da capo. Ah, vedete che ora si può fare? Non ci posso credere. Il pulsante c'era. Ero io che non lo vedevo. Oh mio Dio. Vabbè, livello numero 4. Questo sembra più semplice. Cosa dobbiamo fare? Dove mi devo tuffare? Dove devo cadere senza morire? Credo che là sotto ci sia tipo o acqua o ragnatele. Non lo so, non ne sono sicuro. Però credo che il server voglia che noi ci buttiamo là. E lo dobbiamo fare meglio. Perché come l'abbiamo appena fatto non va bene. Però qua c'è dell'acqua. Posso buttarmi sull'acqua? Posso? Forse posso. Sono arrivato abbastanza vicino poco fa. Vediamo. Dai, per una goccia. Non ci sono arrivato per una goccia. Avete capito la battuta? Acqua. Goccia. Vabbè, non l'avete capita. Ok, salta, 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 salta. Secondo me si può fare questo salto. Ma non è facile. No, 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 ce l'avevo fatta. Solo finito dentro l'acqua. Non ci posso credere. Dai, Kendall, ce la fai. Dai, dai, dai. Mi sembrava la volta buona quella, vi giuro. Quella volta mi sembrava la volta buona. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Non ci posso credere. Sono la persona più contenta del mondo. Eh, no, dai. Ma perché? Ma perché? Ora devo fare questo? Cosa c'è là? No, fatemi esplorare un pochettino meglio. Perché non vorrei che questo poi non è il livello che devo fare veramente. Lì che cosa c'è? Non c'è niente. Lì non posso scendere. Lì neanche. Devo per forza scendere qua. Che qualcuno me la mandi buona. No, ce l'avevo. No, 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 no. Io mi rifiuto. Io mi rifiuto. Io mi rifiuto. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Dai, dai, dai. Cosa? Non mi dire che sto coso spara frecce. Devo attraversare io queste frecce che vanno alla velocità della luce? No, spero, vero? Invece sì. Ora, non ho capito una cosa. Devo saltarlo perché... Ma non è semplice. Credo di aver capito come fare. Devo semplicemente saltare. Oh, ce l'abbiamo fatta bene. Che cos'è sto robo? No, eh. Che devo fare adesso? Dov'è? Dov'è? Qualcuno mi... Per favore, datemi il bottone. Io non ce lo faccio più. Mi uccide questo se lo tocco? No? Non mi uccide. Ok. Almeno questo è positivo. Però io ora come cavolo faccio ad arrivare... No! Ma, 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 ma... Ma, ma, ma... Dai, pulsante, vieni qua. Ma perché non mi posso allungare il braccio? Qualcuno mi aiuti? Vi prego, ragazzi. Io non ce lo faccio più. Questo livello ci ho messo un'ora per finirlo. E ancora non l'ho neanche completato. Sì! Oh! Mio Dio, non ci posso credere. Livello numero 5. Ah, ma questa mappa è identica a quella di prima. In pratica il livello numero 1, il livello numero 2 e il livello numero 3 sono uguali tra di loro. Cambia soltanto che hanno diverse condizioni climatiche. E poi anche il numero 4 e il numero 5 sono uguali. Però qua c'è la neve. E il prossimo sicuramente... Non ho sbagliato. E il prossimo sicuramente sarà il deserto. Quindi, comunque, ho capito come scendere là sotto. No, non ho capito proprio niente. Non ho capito. Devo scendere con cautela perché mi dimentico di avere solo mezzo cuore. Non posso perdere della vita. Quindi, dicevo, ho capito come scendere là sotto perché ovviamente non possiamo andare sul ghiaccio. E là sarei morto. Quindi devo scendere così, piano piano. Benissimo. E ora presumo che io debba scendere in questa caverna. C'abbiamo una ragnatela là. E il pulsante dov'è? Devo andare sulla ragnatela? Eh sì, proviamoci. No! Cacchio! E io sono il maestro delle ragnatele. L'avete visto già in tutti i livelli. Le prendo immediatamente, ragazzi. Sì, il mio nome in realtà è Spider-Man. Mi chiamo Peter Parker. Non sono Kendall. E abbiamo preso la ragnatela al primo... Al secondo, colpa di la verità. Ora dobbiamo trovare il pulsante. Dov'è? Pulsante? Dove ti trovi? Dove si... Dove si nasconde? Dai, per favore. No. Non mi potete... Tra l'altro qua non mi posso neanche suicidare se volessi... Dov'è il pulsante? Non mi dire che è mimetizzato, eh. No, dai. No. Dov'è? E mica là... È quello! È quello! L'ho trovato! Ok, come ci arrivo là? Eh... Come... Cavolo... Come lo clicco? Non si clicca. Oh! L'abbiamo cliccato! Bene. Abbiamo finito il livello numero 5. E come vi dicevo, il livello numero 6 è identico a quell'altro. Semplicemente questo. La montagna secca. Quindi è tipo un deserto praticamente tutto arido. Ah! Ok! Infatti, immaginavo. Perché non potevo scendere da nessun'altra parte. Quindi devo fare così. Poi qua piano piano. Qua abbiamo delle ragnatele. Non so se mi ci devo buttare. Però qua ci sono delle fiamme. Ok. Uh! Che c'è qua? Non c'è niente. Ok, mi devo buttare, presumo, sulle ragnatele. Perfetto. E adesso? Mi sono bloccato per sempre. Eh... Sì, salve. Vorrei... Posso uscire... No? Questa è una trappola? E come muoio ora? Mi devo uccidere? Ok, abbiamo scoperto che questa qua è una trappola. Mi ha trollato. Bravo, creatore della mappa che mi hai trollato. Complimenti. E sono dovuto andare ovviamente in game mode perché altrimenti come l'avrei fatto non sarei mai potuto riuscire da là. Ora credo che io debba fare il parkour qui su. Bene, poi qua. Poi devo andare qui dentro. Ce l'abbiamo fatta. E infine devo scendere senza spaccarmi le ginocchie. Soprattutto senza finire sulle fiamme. No, no, no. Non dovevo saltare. Sono stupido. Ormai sono diventato un maestro in questo livello per quante volte l'ho fatto, ragazzi. Guardate con quanta velocità riesco a finire questo livello. Guardate, guardate. L'ho fatto talmente tante volte che sono diventato un vero e proprio... Cretino. Ecco che sono diventato un vero e proprio cretino. Ora, teoricamente è possibile saltare sul fuoco e ce l'abbiamo appena fatta. Alla faccia tua, creatore della mappa. Ora, credo che qua ci sia un pulsante. L'abbiamo trovato... È questo? No, quello non è il pulsante. Non voglio spingermi troppo in mezzo alle fiamme. Quindi speriamo di trovarlo senza... Ok! Ci siamo riusciti. Livello numero 7. Le Skylands. Devo prendere questa ragnatela. L'abbiamo presa. Bene, bene, bene. E devo però entrare all'interno dell'isola perché sennò cado giù nel vuoto. Entra, Kendall. Entra per bene, mi raccomando. Scivola come se fossi dentro l'olio. Quanto è bello arrivare a 200 morti. Siamo riusciti con il parkour? Bene. Credo che io ora debba andare in acqua, giusto? Perché probabilmente devo scendere laggiù fino alla sotto. Quindi prendiamo l'acqua. Non ci rischiamo a prendere l'acqua perché quando mai Kendall riesce a prendere l'acqua? Sì! Ce l'abbiamo fatta. Ok, dovevo fare un doppio salto. Bene, bene, bene. Ora presumo che io debba continuare con il parkour. Molto semplice. Così, piano piano. E ora devo fare un salto carpiato praticamente. Devo girare attorno al blocco. Vediamo. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Vedete quando dico che faccio schifo nel parkour? Non è del tutto vero. E là c'è dell'acqua. Quindi buttiamoci dentro l'acqua. Bene. Ok, ci siamo riusciti. E adesso? Dov'è il pulsante? Pulsante? Dov'è? Fammi dire che era un troll. Io mi rifiuto di credere che tutto questo era un troll. Ah, eccolo. Ok, l'abbiamo trovato. Bene. Benissimo. Livello numero 7. Ora è la stessa identica cosa però con la neve. Quindi sappiamo bene tutti quanti che la neve ti uccide se ci salti sopra. Nella vita reale pure è così. Ovvio. Come no? Poi dobbiamo salire qui su. Ottimo. E poi credo che ci dobbiamo incastrare sulla ragnatela. Boh, ci provo. 3, 2, 1. Vai Kendall. No. No. Un pochettino più davanti. Devo prenderla. Dai che ci... La raggiungo. La raggiungo. Ce l'ho quasi fatta. Ce l'ho quasi fatta. 3. No, no, no. Non sbattere Kendall. Non sbattere. Se sbatti muori. Se sbatti muori. Quindi non sbattere. Ok. Ce l'abbiamo fatta? No. È una trappola? È una trappola? Ah no. Oh mio Dio. Livello numero 8. Bene. Bene. Bene, 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 bene. Ormai ho capito come si fa questo livello. Quindi dovrebbe essere facilissimo. E siamo riusciti a finire in tempo record il livello di prima. Quello della neve. Veramente. Non ho mai finito un livello così velocemente. E dove devo scendere ora? Qua la ragnatela non c'è più. E no. Qui. Poi andiamo qui. Ah. Possiamo andare qua. Aspetta, aspetta. Così. Oh. Oh mio Dio. Sì. Oh mio Dio. Esatto. Questa è la parola giusta. Oh mio Dio. Perché non riesco a fare quel salto che l'ho già fatto al 300 milioni di volte? Anche questo l'ho già fatto al 300 milioni di volte. Ma nonostante ciò io non riesco ancora a farlo. Perché Kendall non impara mai. Così. E l'abbiamo fatto. Ora, teoricamente, qua sotto dovrebbe esserci il pulsante. Proprio come prima. Bene. Livello numero 7 completato. E adesso... Come? Ma... Aspetta, ma io già l'avevo fatto questo. No, aspetta. Sto impazzendo? Sto per caso uscendo fuori di testa. Ma io l'avevo già fatto questo. E io questo livello l'ho già fatto, ragazzi. L'avete visto? Ma sì, ma io l'ho già fatto questo livello. È lo stesso livello di prima. È il livello numero 7. L'avevo finito. Perché mi ha portato indietro qua? Livello numero 9. Eh, ok. L'ho fatto. Ho cliccato il pulsante. E perché mi porta indietro? Eh... Cosa? Cosa sta succedendo? Allora, a questo punto proviamo. Vediamo che succede. Niente. È un pulsante finto. Ma mi stai prendendo in giro? Eccolo! Oh mio Dio... Ok, aspettate. Rifacciamo la mappa da capo perché ora ho capito come si fa. Ora l'ho capito. Sì, 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 sì. Il creatore di questa mappa è talmente un troll che ne ha messi ben 3 di pulsanti. E uno è qua dietro. Dobbiamo semplicemente fare così. Cliccarlo. E abbiamo finito la mappa. Con la bellezza di 186 morti. Ci riuscireste voi a fare 186 morti? Sono sicuro che non ci riuscireste mai. 186 morti? Solo un campione può fare 186 morti. Ragazzi, io spero vi sia piaciuto questo video. Ovviamente lasciate un bel mi piace anche se sono bugato. Sono sempre io e sempre Kendall che vi parla. Lasciate un bel mi piace e condividete questo video con tutti i vostri amici. E mi raccomando, ditemi se vorreste vedere anche il quarto livello di questa mappa. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!